Sono un giocatore, però vede, dottoressa, io non gioco con le macchinette dei bar, io gioco a poker. Quindi mi sta dicendo che per lei è un lavoro? Esattamente. Qualcuno ti ha parlato male di me. Ci possiamo vedere da un'altra parte, se vuole. Dimelo adesso, che fai? Gestisco le mie proprietà. Sei un principe, allora. Dice di avere un industriale da spegnare, e la posta è alta, va dai 60 agli 80 mila euro. Ma è una cosa che tiene sotto controllo, di cui è consapevole, non è un credino qualunque. Ammi 100 euro, dai. Antone, stai scherzando? Tira fuori 100 euro. Fai schifo, fai! Fai schifo! La galleria d'arte che aveva si è trasformata in un negozio di mutande. Colpa tua se sto qui, stronzo! Adesso vieni a casa con me. Vieni a casa con me, ricominciamo da capo. Cosa? Sei completamente canta? Ricominciamo da capo perché tu mi ami! Un giorno di queste riporto a rara. Un giorno di queste riporto a rara.